Sono i referenti della squadra, il preparatore fisico, il manager Gennaro Corcella, il massaggiatore Pasquale Tufariello, il nostro dirigente accompagnatore Lello Bufo, l'addetto stampa da quest'anno infatti è ancora senza polo Alfonso Di Vito, il coach lo conoscete, vuoi presentarti Luigi Marinelli, qui abbiamo l'inviato esterno che è il nostro primo Siena, il vicepresidente Giuseppe Di Giorgio e il presidente Michele Di Piceglia, io sono la responsabile della comunicazione e del marketing, Marinella alla pacca, sono l'unica donna ovviamente, e niente in breve dopo darò la parola al presidente, per quanto riguarda la comunicazione e la gestione social Buonvenuto, spero che vi troviate bene, vi preannuncio che noi, alcuni ci conoscono, siamo una società relativamente giovane, facciamo per la prima volta la serie B e quindi paghiamo anche lo scopo della matricola, quindi lusso di lusso per andare a fare la trasferta, non vi aspettate l'albergo a 5 stelle, quindi vi chiedo il titolo di allontanare e per qualsiasi problema vi prego di venirlo a riferire immediatamente o a me o al vicepresidente Di Giorgio perché non c'è niente di più antipatico del pettegoletto, quindi si parla se uno ha dei problemi, si trova male, ha bisogno di qualche cosa, piuttosto che parlarne male con un compagno, c'è visto qua il letto è tutto scordo, veniteci a dire e cerchiamo nei limiti delle nostre possibilità chi risolverà il problema? che ti che